Perfetto, Luca, Martini, Rea, Silvio. Diciamo che la Fuglia è stata la seconda, che ha presentato la squadra HF, la squadra HF, che ora la dobbiamo salire, dopo un episodio di avanti, in un'altra parte di fronte. Stiamo a fare la torta HF, che ora la facciamo, che ora le possiamo raggiungere. Perfetto. Voi, sono piccoli, quindi sono piccoli. come avanti? Ecco. è una democrazia che si tratta da diversificare. Sono piccoli, Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.